Il 9 ottobre del 2016 fu aperto il centro per migranti CAS a Ripa Bottoni. Arrivarono 36 stranieri africani subsahariani. All'inizio un po' di diffidenza, si raccolsero addirittura circa 200 firme contro tali arrivi, poi pian piano l'apertura da parte della gente, conoscenza reciproca, fino ad arrivare a un'integrazione quasi totale e a una gara di solidarietà dei ripa bottonesi. I migranti entrano a far parte della vita della comunità, un piccolo battezzato, alcuni di loro che giocano con la maglia della squadra di calcio del paese, altri che cantano nel coro della parrocchia. Un paio di settimane fa, l'8 gennaio, la chiusura del CAS disposta dalla prefettura di Campobasso, CAS a cui il sindaco si era sempre opposto, esprimendo parere negativo e chiedendo l'applicazione delle norme di salvaguardia. Quindi lo spostamento dei migranti dal centro Xenia in altri comuni. Una decisione che ha provocato l'indignazione dei cittadini di Ripa Bottoni, i quali hanno raccolto firme stavolta, 152 su 400 residenti circa, per evitare la partenza di quegli stranieri ormai parte della comunità a niente servito. I migranti sono andati via tra le lacrime loro e di quegli abitanti di Ripa Bottoni che li amano e li considerano ormai concittadini a tutti gli effetti. Notizia questa che ha fatto il Giro d'Italia, se vogliamo, in controtendenza con molte delle posizioni che circolano sui migranti. A Ripa Bottoni a maggio si vota per le comunali. L'opposizione in consiglio vuole vederci chiaro in questa storia, così come gli ex dipendenti del CAS. Intanto lo SPRAR, caldeggiato dal sindaco, è stato aperto a ottobre dello scorso anno. Nello SPRAR sappiamo per certo che ci lavorano sei persone di Ripa Bottoni, quali parenti e quali vicini al sindaco. Le altre persone invece, quelle che sono state licenziate perché ormai hanno perso il lavoro, erano persone che non avevano legami con la vita politica, erano persone che in qualche modo, professionisti, avevano delle competenze e altri perché magari erano ragazzi del posto che volevano fare questo tipo di esperienza. La ricetta, quella che in qualche modo è stata messa in piedi all'interno del CAS, ha funzionato e ha funzionato bene. Se siamo adesso, diciamo, anche a livello nazionale conosciuti come un sistema di integrazione che ha funzionato, evidentemente andava tutto bene. L'ex direttrice del CAS vorrebbe avere risposte dalla prefettura o dalle istituzioni sul perché dell'immediata chiusura del centro per cui, ha spiegato Patrizia Pano, si sono persi 16 posti di lavoro. Noi auspichiamo di avere in qualche modo una risposta, una risposta in modo particolare dalla prefettura che nel giro di veramente pochissimi giorni, appena tre giorni, dall'arrivo del provvedimento ha fatto chiudere un centro che torna a dire e insomma lavorava bene. Il comitato spontaneo che è nato a Ripabottoni, che ha raccolto le firme, le 152 firme sono state raccolte in una giornata, non si fermerà, le risposte le vuole. Penso che sia un diritto.